Ciao Vivi, grazie per questo commento e grazie per aver condiviso con me questo tuo episodio. Scusami la voce ma ho fatto baldoria. Io ho avuto un episodio simile. Quando cinque anni fa ho avuto la mia prima extrauterina, le persone avevano capito fischi per fiaschi. In che senso? Io ho avuto l'extrauterina, sono stata operata e tutto il resto. Sono ritornata qui a Capri e avendo avuto una bella operazione calcola che riuscivo a camminare con le stampelle. Non mi potrò mai dimenticare, penso che erano passate un paio di settimane, andrei a fare il controllo dal ginecologo. Vado da lui, giustamente stando vicino al negozio, passo per il negozio per salutare le persone. In primis lo staff e poi chi si trovava nel negozio. Si trovava nel negozio questa persona, cattiva, molto cattiva, già a prescindere. Lo dico. Mentre io raccontavo giustamente che cosa mi era successo, cioè che io avevo avuto la gravidanza normale, non si erano accorti dell'extrauterina e tutto il resto, sono stata operata. Questa persona all'improvviso si gira, mentre io parlavo con un'altra persona, mi guarda e ridendo fa Auguri! Allora, come va la gravidanza? Tutto bene, ho saputo che sei incinta. E io così, ho detto, guarda mia madre faccio, che devo fare? Le metto le mani addosso o me le devo andare? Mia mamma fa stai calma, non dire niente. Invece io la guardo e dico, lei non ha capito nel merito cazzo. Forse ha sentito anche quello che io ho raccontato, ho appena raccontato che è andata come è andata, extraduerina, aborto spontaneo e tutto il resto. Lei mi ha fatto gli auguri, perché io ero incinta. Hai capito a che cosa siamo arrivati? Vabbè, lasciamo stare. Quindi io ora sì, parto di capato in bocca e oramai la frase per eccellenza, la quale la metto anche in questi video, è fatevi i cazzi vostri, fatti i cazzi tuoi. Cioè, oramai rispondiamo così. Che vuoi fare Vivi? La vita è bella comunque. Io ti mando un forte bacio, grazie per aver condiviso con me, grazie per aver commentato e grazie per seguirmi. Ciao!